ma volevo partire con martin misteri ma sì dai facciamo due cosine su martin misteri tu lo compri venditti lo prendi il primo martin misteri ho visto che stanno facendo la ristampa tutta antologio non so come si dice però non penso di seguirlo semmeno mi recupero qualche numero vecchia mercatini per curiosità non è super economico ma no ma più che altro non è tanto l'economicità perché comunque dovrebbe essere l'edizione IF fanno delle belle edizioni no ti mettono due albi dentro e ti fanno pagare due albi in poche parole no cosa viene 7 euro tra le 7 e 8 euro non avevo capito fossero due albi pensavo fosse solo non ho capito bene ne mettono due con l'editoriale poi se qualcuno sa qualcosina in più non è male qualcuno ha anche detto va bene ma i mercatini li trovi anche a meno sì ho capito però l'iniziativa è lodevole insomma secondo me devo essere sincero non so nemmeno io se lo prendo io ho molti numeri di quel periodo là che ho comprato però effettivamente al mercatino volendo anche tutto un martin misteri si trova intero vabbè magari qualcuno che non conosce tanto magari che non ha mai seguito Bonelli che non frequenta mercatini si può avvicinare così sì io la trovo una cosa carina cioè insomma qualcuno qualcuno penso che qualcuno la farà soprattutto per un numero come si fa di solito io sinceramente se la faccio e per comunque delle serie Bonelli di solito di quelle che stanno ancora uscendo di solito prendo sempre i primi 100 no da tenere lì quindi ho quello di Nathan Never in origine i primi 100 poi mi prendo qualche albo ogni tanto perché se no ragazzi veramente no non ci stiamo proprio più dentro se proprio non sei appassionato di Nathan Never o di Dylan Dog no cioè essere appassionato di fumetti se ti leghi anche a questi seriali ragazzi è la fine secondo me io sinceramente ho proprio problemi di spazio ultimamente quindi quando non ho più spazio ho tutto nell'armadio cantina garage non sto scherzando le librerie sono delle ultime cose lette e di quello che voglio far vedere come bomboniera no quando la gente entra che mi fai cazzo niente a nessuno però magari proprio l'album che ogni tanto mi piace proprio prendere no fisicamente risfogliarlo però se no ragazzi veramente ma uno dei commenti che mi è stato mi è stato anche fatto è ma tu insomma parli di relegature come fai a non amare la carta ti piace la scan è una stupidaggine questa no non è così non è quello che ho detto la scan la uso veramente per comodità su alcuni adesso ultimamente manga devo essere sincero la uso perché non riesco proprio più a leggerli cioè sono sempre più piccoli sempre più faccio cosi faccio veramente fatica ragazzi cioè ma non solo ad aprirlo ho proprio problemi anche di vista e quindi parlavamo dei martin misteri se no partiamo parliamo tre ore di altro no ma allora martin mistero è nato nell'ottantadue no il periodo è avuto successo c'è il periodo giusto ha pubblicato questo personaggio la bonelli no ogni a un certo punto voleva distaccarsi la bonelli da quello che era il classico western no poi ha fatto il fantasy fantasy western con lo zagro diciamo così con martin misteri c'è stata la novità perché in quegli anni c'era molto c'erano molti film usciti all'epoca tipo indiana jones no molte trasmissioni lo stesso alberto angela negli anni ottanta ha iniziato veramente a fare eh cos'era super quark o quark all'inizio poi super quark no negli anni novanti primi anni novanta soprattutto primi anni novanta nascono trasmissioni secondo me lì è stato il successo successo italiano di martin mistero sono nati i primi documentari primi le prime trasmissioni di successo del mistero no ricordo l'arca l'arca mi sembra di non mi ricordo di buonanima morto mi ricordo mi sembra mino mino d'amianto no mino d'amianto o mino d'amato no veniva definito mino d'amianto perché a un certo punto lui si è messo a camminare no come fece giusto cascasella sui carboni ardenti per la prima volta e quindi lo chiamarono mino d'amianto in realtà poi poveraccio è mancato di malattia eh mi sembra inizio anni duemila ed ebbe un grande successo fino a tutti gli anni novanta vendevo parecchio poi probabilmente con l'inizio del duemila l'attestata eh ha rischiato di di essere chiusa no duemila e cinque lo ripropongono bimestrale e da lì per me ha perso interesse perché l'ho iniziato a trovare veramente pesante era un mallopone grosso eh questo bimestrale lo trovavo veramente pesante come come storie da leggere rispetto a prima però insomma poi è ritornato un attimino di nuovo nel duemila da poco duemila e ventuno di nuovo mensile non so esattamente i dati di vendita eh però lo ricordo sempre con piacere quindi con interesse se vogliamo ancora dire consigliare ecco consiglio è cercate i mercatini ragazzi se li trovano ancora eh io trovo carino Marty Mister e Nathan Never che è questo qua ok io lo trovo una una gran bella storia ma questo si trova eh ragazzi due tre a due tre euro ai mercatini proprio perché sono le prime edizioni personaggio poi c'è la fine del mondo con Dylan Dogg mi sembra che ce ne sia un altro con Dylan Dogg che è l'ultima fermata dell'incubo che avevo ma non trovo più sinceramente forse l'unico l'ultima fermata dell'incubo che magari si trova un pochino meno ma se non sbaglio sono usciti poi anche nelle nelle librerie delle ristampe eh cartonate eccetera e poi qualche gigante che io consiglio sempre penso che anche Roberto no questo com'è questo roba è bellino eh quello è il mio è il mio fumetto preferito quello me lo regalò me lo regalò Giuseppe Pagano mi mandò il papo bellissimo poi poi Roberto ti consiglio cioè un fumetto di su Bari dove Bari è al centro di tutto l'universo cioè bellissimo sì la storia la storia di Santa Claus no San Nicola Santa Claus quella storia lì insomma sì a parte era molto carino Marchimister gli alieni Santo Graal gli zombie poi c'è tutta la storia di Bari da quando è stata creata con tutte le grandi tragedie la storia di Bari sono tutte le grandi tragedie l'inondazione il bombardamento il terremoto tutte tutte collegate in un'unica super mega ma troppo belle sì sì io io la consiglio soprattutto ai ragazzi giovanissimi che non sanno che che comunque sono affascinati dal mistero no come lo eravamo noi in quegli anni in questa collana adesso prendo il numero uno magari per curiosità però poi andrò aspetto che si arriva ai misteri italiani mi faccio magari i misteri italiani sono questi no qualcuno mi ha chiesto della collana regolare che però vediamo se vedete sì ma sono normalissimi c'è il bollino sono i numeri 157 forse per due anni non mi ricordo bene e boh ragazzi qualcuno ha qualcosa da dire di Martimisteri io la allora per chi non l'ha mai fatta la consiglio pure però ripeto per chi lo conosce i mercatini sono pieni ecco a me mi incuriosisce più che altro ripeto magari sì avere avere i primi adesso guardo un attimino cosa non so è un mensile è un mensile mi pare di sì però ripeto sono sempre 7 8 euro cavolo per fare quella mensilmente e che possa avere ai mercatini io adesso mi ero messo in testo di raccogliere le storie mancanti dei misteri italiani no per dire per storie complete conosco il personaggio però per spendere quei soldi là preferisco continuare a vedere le storietas che comunque sì va bene la stampa proprio del genere però secondo me insomma anche l'ultima storia che sta portando in quattro numeri preferisco spenderla in quella no cioè sono anche delle opere che hanno una conclusione che hanno veramente un certo valore fumettistico magari più mondiale ecco come posso dire preferisco puntare su quella no io però non conoscevo la parte dei misteri italiani di martin mister quindi magari mi faccio un giro vedo se cioè mi sembrava carina vedo se trovo qualcosa di quello sì a un certo punto mi ricordo perché martin mister sbarca in italia e ci sono le avventure in italia sono molto carine molto carine perché la gioconda il non so c'era una storia bellina dovrei rileggere ma le riprenderò su beonardo da vinci sul primo e secondo me è studiata bene no e sono sono molti sono sono quasi tutti i numeri autoconclusivi massimo ci sono due parti due numeri cioè in due parti che all'epoca in realtà era una continuity cioè continuity no quindi leggevo il primo albo la bonelli faceva così il primo albo forse con di land dog si è iniziato si è iniziato a proprio a progettarlo come angolo in martin mister c'è anche bella la collana zona x che è comunque di una costola del mondo di martin mister anche quelli non so quanti numeri erano però se riuscite a recuperarli a mercatini zona x dall'uno in poi secondo me erano sono bellissime come storie volevo chiudere il discorso martin mister dicendo che comunque un qualcosa di negativo ce lo trovo in martin mister c'è la capigliatura almeno anni ottanta sta cofanata che c'hai cambiatela ragazzi quello quello sì cioè io mi sono sempre detto hanno fatto la nuova serie tra l'altro carino io ho letto la prima a colore eccetera era veramente secondo me carina no ma almeno lì cioè siamo nel 2020 tagliateli non dico come me sono tutti molto ancora anni ottanta no 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 ecco una cosa la serie animata lasciate perdere non c'entra assolutamente un cazzo con martin mister ma da quello che ho capito è è tipo lui da giovane da quello che ho capito ma c'è lascia stare è inguardabile proprio non ha senso non c'entra proprio niente non c'entra proprio niente va bene scusami è una merda vai su vai su vai su cazzo c'entra una serie di martin mister insulta tutti i bambini che quello che è giusto no quello è diverso quello è giusto la differenza è davvero troppa lì persino io divento ma no va bene ma allora non ti consiglierei magari non prendi la if no perché comunque ha una continuity ti consiglierei se trovi mercatini anche se non trovi mai niente qualche numero dei misteri italiani ecco che autoconclusivo come è molto carino ecco potrebbe piacerti però ripeto siamo sempre lì la storiella da prendere leggerla senza senza impegno e adesso non non facciamo diventare tutto quanto capolavoro è un capolavoro come al solito nell'insieme perché è intrattenuto per tantissimi anni varie generazioni chissà se riuscirà a intrattenere ancora nel prossimo futuro perché come ripeto c'è fino a ieri non è che se la passava bene in vendite chissà la chiudendo a intrattenere prezzemolino ma se fanno queste iniziative cioè riparti dal numero uno ristamparlo tutto lo si fa solo per vendere o anche perché altrimenti poi il pubblico nuovo non si viene a creare no cioè serve anche a creare nuovi appassionati vici perché magari sì 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 è un po come è come il manga con la gazzetta più o meno no si raggiungono accordi dove dove sicuramente la bonelli non è che ci guadagni più di tanto ma per il personaggio che è un personaggio seriale non gliene frega niente capito di prendere tantissime cose ma gli interessa continuare a tenere quel pubblico che gli vende comunque delle cifre che sono ancora superiore cioè ricordiamoci che la bonelli è una e stampa i suoi fumetti e che comunque le tre quattro testate mantengono mantengono famiglie